Stefano Ghirardello è stato tra i grandi protagonisti della promozione in Serie B dell'Avellino nella stagione 2004-2005, conquistata grazie allo storico successo in finale play-off sul Napoli. L'ex attaccante si è unito al coro dei grandi del passato bianco-verde che, attraverso 696 TV8 Channel, hanno espresso parole di incoraggiamento, ribadito l'invito alla prudenza e al rispetto delle regole per mettersi alle spalle l'emergenza Covid-19. Un grande saluto a tutta Avellino, tifosi e amici con i quali ho condiviso grandi emozioni, meravigliose, in anni sicuramente più lieti rispetto a questo periodo. È una terra che mi ha amato, è una terra che mi ha insegnato a soffrire, tra l'altro voi ne sapete già qualcosa di sofferenza, l'avete già passata in passato. Quindi mi avete insegnato a lottare, a soffrire per superare tutte le difficoltà che la vita purtroppo in alcuni momenti ci mette a dura prova. Solo se stiamo uniti e rispettiamo le regole che tutti ci stanno dicendo di fare, solo così potremo venirne fuori il prima possibile. Con la speranza di rivedervi presto colgo l'occasione di farvi i migliori auguri di una Pasqua in salute e forza lupi, sempre. Pazienza e resistenza sono le parole d'ordine per tornare il prima possibile alla normalità e sugli spalti del Partenio Lombardi.